All'ospedale San Donato di Arezzo arriva un ambulatorio che si prenderà carico dei casi meno gravi, i vecchi codici bianchi ed azzurri, accanto e da supporto del pronto soccorso aretino. Quando il cittadino si presenta all'ingresso del pronto soccorso troverà qualcuno che l'accoglie, che cerca di capire qual è il suo bisogno e sulla base di questo verrà avviato o all'interno del percorso del pronto soccorso vero e proprio oppure gli verrà suggerito di seguire la striscia arancione che c'è in terra per arrivare dopo pochi metri a questo ambiente qui dove ci sarà una piccola sala aspetto e soprattutto un medico della continuità assistenziale che accoglierà e darà risposte al suo bisogno. L'ambulatorio della continuità assistenziale, l'ex guardia medica, sarà operativo dal venerdì pomeriggio a lunedì mattina dalle 9 alle 20 nei prefestivi ed infine nei festivi infrasettimanali. In questi giorni al medico di medicina generale ovviamente assente c'è la continuità assistenziale che può agevolmente e facilmente sostituirlo nell'affrontare appunto queste patologie di lieve entità. Oltre alla piccola traumatologia, piccole ferite, abrasioni eccetera, alcune forme febbrili non complicate che possono essere gestite dal medico di medicina generale, alcune infezioni, adonzilite, le otiti, le faringiti, le cistiti, ecco che peraltro il medico di medicina generale normalmente affronta. L'obiettivo del progetto che per il momento vivrà una fase sperimentale di quattro mesi è quello di decongestionare il pronto soccorso e dare così una risposta più veloce ai cittadini con problematiche meno gravi. Manterremo inalterata l'attuale organizzazione di continuità assistenziale, nulla verrà ridotto per intendersi. Si aggiunge questo servizio che insomma è dentro i locali del pronto soccorso. Questo fa sì che se un paziente invece ha bisogno del pronto soccorso verrà subito mandato al pronto soccorso e questo fa sì anche che se ci sono piccole diagnostiche da attivare, insomma è il posto giusto per averle ecco senza creare però tappi all'accesso.